Il club di Autostorica e la Spezia Epocar torna a Borgotaro per la seconda volta dopo la loro bella presenza che era stata appunto una delle manifestazioni collaterali all'interno della Fiera del Fungo. Abbiamo il signor Cerchi qua che ci parlerà appunto del come mai piace Borgotaro la Spezia Epocar e qual è il programma di oggi. Allora ci piace Borgotaro perché abbiamo trovato sicuramente un ambiente sereno, tranquillo e fatto di persone che hanno delle passioni da dover coltivare come noi e di conseguenza questa collaborazione per noi credo che sia il giusto modo di coronare quello che è il lavoro che durante l'anno cerchiamo sempre di fare e sono ovviamente due raduni all'anno. Gli anni scorsi facevamo una passeggiata a cronometro e un raduno esclusivamente solo di 500. Quest'anno la passeggiata a cronometro è saltata per svariate motivazioni e di conseguenza abbiamo pensato che fosse giusto e doveroso fare un secondo raduno aperto a tutte le macchine non solo esclusivamente al modello della 500. E abbiamo scelto come scenario quello di Borgotaro perché ripeto le motivazioni sono validissime, il posto piace. Siamo stati l'ultima volta, il tempo era stato inclemente nell'arco di tutta la giornata. Oggi finalmente abbiamo trovato anche il buon tempo dalla nostra parte quindi siamo felicissimi di essere qui. E si può dire di fungo in fungo perché l'altra volta era il tempo del fungo porcino e questa volta avrete un motivo di degustare anche il fungo primaverile che è il fungo prognolo. Perfetto, noi siamo qua anche per quello, quindi per mettere a posto il palato. Perfetto, noi siamo qua. Perfetto, noi siamo qua. Perfetto, noi siamo qua.